E' stata inaugurata oggi in Largo Mamiani la sede elettorale di Alleanza Verde e Sinistra che ha presentato i dieci punti programmatici di un percorso verso le elezioni amministrative a Pesaro costruito sulla visione di Europa Verde e Sinistra Italiana ma che si propone anche come lista aperta a comitati ai cittadini con la partecipazione attiva quale primo cardine del programma. La cosa più importante per noi è poter parlare ai cittadini e spiegare cosa veramente vogliamo portare nella nostra città come sicuramente unica novità partitica a Pesaro e lo vogliamo fare con il metodo che c'è da sempre con naturale cioè quello di ascoltare e poi magari fare la sintesi e riportarlo nelle istituzioni. Alleanza Verde e Sinistra punta su politiche ambientali che prevedono un piano di sviluppo del verde, un'attenzione al ciclo dell'acqua e dei rifiuti l'applicazione della cosiddetta strategia Fiver, programmi di agricoltura e mobilità sostenibile e poi ancora politiche sociali per il diritto all'abitare, politiche del lavoro che puntano su retribuzioni eque, politiche di inclusione dallo sport alla tutela delle minoranze. Dal salario minimo comunale, quindi il discorso del lavoro, all'emergenza abitativa, alla gestione del verde. Tanti punti all'attivo e soprattutto noi siamo per l'ambiente e di conseguenza per la salute e benessere del cittadino per lo sport inclusivo e tantissimi altri temi. Quello della cultura, della pace e dell'accoglienza e quindi anche dell'utilizzare tutti i mezzi della diplomazia che anche un comune ha per poter incidere sulle dinamiche internazionali che in questo momento sono drammatiche e per contribuire ai processi di pace e di dialogo tra le nazioni. In questo in particolare facciamo riferimento al gemellaggio Pesaro-Rafa e uno dei nostri candidati, appunto Nasser Dabash. La nostra posizione naturale come alleanza verde-sinistra è nel centro-sinistra ma che sarà improcrastinabile un confronto immediato sui nostri punti programmatici perché noi non siamo qui per fare semplicemente le barriccate nei confronti di un'altra coalizione che non è progressista ed è sovranista ma per portare avanti dei temi che secondo noi in questa amministrazione oggi come oggi sono fondamentali e mancano da almeno 15 anni.